Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Alberto Giordano che mi chiede di parlare del film del 1962 Il Promontorio della Paura, ovvero Cape Fear è rifatto in maniera ottima da Martin Scorsese ma è l'originale, secondo me era migliore, è un capolavoro, un noir meraviglioso un'opera thriller di quelle che lasciano il segno e non a caso Scorsese appunto ne ha voluto fare un remake proprio perché è un filmone, è un film incredibile con degli attori fantastici diretto da Lee J. Thompson interpretato dai due protagonisti Robert Mitchum e Gregory Peck basato sul romanzo Executonious di John MacDonald con delle musiche meravigliose di Bernard Herrmann e il grandissimo Mitchum qui è veramente inquietante mentre Gregory Peck, che aveva fatto un po' di cattivi qui decide di fare l'avvocato buono ovvero Sam Bowden che è un avvocato che praticamente un giorno mentre esce dal tribunale si ritrova accanto a se, Cady questo uomo che ha fatto degli anni di galera per lui è colpa appunto del nostro avvocato non perché era il suo avvocato come nel film di Scorsese ma perché era stato il testimone che l'aveva fatto praticamente arrestare e quindi il nostro comincia ad andare in paranoia anche perché ha la moglie e la figlia e questo lo continua a perseguitare e quindi all'interno del film troviamo appunto lui che si rivolge a un poliziotto per cercare di risolvere la situazione che sempre di più degenera fino però al bellissimo finale che seppur simile si allontana nettamente poi da quello appunto che tutti conoscete forse più di questo di Scorsese questo è un film meraviglioso è uno di quei classici film che è pieni di tensione pieni veramente di grandissima grandissima cinema un bianco e nero straordinario di Sam Levitt che leva veramente lì di ulo un montaggio perfetto che crea una tensione tra il noir come ho detto il thriller ma anche il dramma sociale e tutto è mescolato all'astra grande dalla sceneggiatura di James Earl Webb che funziona benissimo poi ripeto questi due fanno una gara veramente di bravura sono due mostri che poi faranno una particina un cameo anche nel film appunto di Scorsese ma questi ritirano sul film ma non è solo questo è proprio il tutto il tutto anche quando vanno dal detective privato e tutte le cose che succederanno è un film costruito benissimo il vice sceriffo tutta la parte finale è un film che si muove nella sua ore 50 senza mai lasciare una scena buttata lì a casa ogni raccordo è montato in maniera assoluta ogni stacco di montaggio ha la sua valenza narrativa ed è un film veramente inquietante Mitchum con quel cappello e il vestito a differenza di quello di De Niro che era molto carico, tatuato tutto sfatto il nostro è molto più signorile ma non c'è senso forse più malefico nel suo essere così americano puro nel vestirsi nel modo di parlare veramente inquietante è uno di quei classici film che lasciano veramente basiti perché visto adesso che sono passati quasi 70 anni non dimostra nemmeno gli anni che ha è una cosa impressionante proprio perché gli attori danno il massimo le musiche come ho detto di Bernard Herrmann sono uno spettavolo della natura e Jerry Thompson dirige con una mano talmente ferma talmente precisa che ogni carrello ogni movimento di macchina ogni macchina a mano ogni cosa che riesce a portare avanti questo film è costruita in maniera perfetta il classico film è praticamente senza difetti un film che vola da una parte all'altra del tempo praticamente non si riesce a capire mai come si possa aver fatto un film così forte anche a livello di tematiche in quel periodo veramente un film molto particolare che adesso a noi sembra così normale proprio per i remake di Scorsese e peraltro ma che all'epoca ripeto era veramente innovativo sia per la storia ma soprattutto per la messa in scena e per un tipo anche di modo di creare questa specie di noir attraverso un personaggio come quello di Robert Bich un davvero devastante davvero orribile ma non fino in fondo e con un un grandissimo Gregory Peck che si riprende il ruolo da buono e lo fa con una grazia al solito non comune dei grandissimi autori dei grandissimi talenti appunto recitativi poi vabbè ci sono anche Martin Balsam del telisa valas Will Wright Pauli Bergen Laurie Martin Jack Ruschen insomma un cast veramente enorme per un film bomba uno di quei classici film che andrebbero visti rivisti per capire come si gira il cinema thriller e noir ci sono almeno 3-4 sequenze la parte finale sulla barca la parte iniziale la parte che insegue la moglie che sono veramente devastanti ancora oggi hanno una modernità che i thrillerini che appunto fanno ora ora e si scordano alla grande perché continuano a inseguire cose che insomma non parlano agli spettatori ma parlano evidentemente solo al portafoglio questo era veramente un gran film intratteneva era intelligente aveva una grandissima arte al suo interno eppure riusciva ad essere così completo quindi che vi posso dire di più il link è qui sotto acquisto obbligato è nel cofanetto insieme della Midnet mi farei insieme a quello di Marty Scorsese mi farei la coppiata la metto qui sotto poi insomma donate su Patreon andate qui sotto sul campanello del Super Grazie per donare direttamente anche su Youtube iscrivetevi al canale mi piace la campanellina seguitemi su Facebook Instagram e la giro per quello che faccio per l'Italia e poi ripeto questo Cape Fear il promontorio della paura del 1962 è un passo obbligato per tutti gli amanti del cinema e visto che ci siete c'è l'edizione insieme a quella di Scorsese ve li farei tutti e due ripeto il link è qua sotto grazie a tutti grazie a tutti